bene ragazzi bentornati sul mio canale stiamo qui oggi con juventus lazio oggi non sono da solo ragazzi perché con me a portarci fortuna chi sarà robbie ciao a tutti piacere sono roberta ovviamente passate dal suo instagram e youtube perché anche le fa video a più di più però su facebook è vero poi magari introduciamo anche la juve sui suoi video dai comunque oggi juventus lazio la juve giocherà con un 4 da 3 meno male perché si adatta diciamo come giocava ronaldo al madrid quindi vediamo un po se arriverà il suo primo gol con la maglia della juve proprio contro la lazio che un anno fa in casa ci hanno battuto quindi ragazzi sarà molto fondamentale questa partita le squadre sono già in campo tutto pronto dallo juventus stadium anzi allianz stadium si parte si parte si parte ci parte da da juve roma dalle cari dentro il taglio verso l'alto che si arrampica prende la di testa ma non riesce a colpire bene il fatto anche al momento di arrivare sul pallone da marovic alla sul fondo ripresa per il pallone mettendo il calcio d'angolo si arrivo cerca di palleggiare passa ma se piani ci sbaglia così la regolata si troppo di prenderla già iniziazione quando succede questo c'è bisogno di attaccanti la juventus la marescia si mi ha presa lì che era difficile ho parata attenzione a radio che mette molto in difficoltà stracoscia costretto a stoppare il pallone con il piede meno buono sul rigo di cristiano ronanzo qualcuno fischiano molti coprono con applausi ma l'ha detto ma lì ma l'ha fatto sempre lui vicino al gol così come coltievo l'aveva sblocata anche qui è un passo da 1 a 0 poi è un ruolo incredibile di benadesi che la tiene in campo due volte calcia verso l'alto quasi che fa la torre al centro per maggiore di pallone che schizza per piani e c'è una pura fantacalcio grande piani c martino ma l'intelligenza di piani è diventato nell'ultimo anno soprattutto un centrocampista totale è un bel gol a fare qui questo al volo che guarda come colpisce la palla guarda come intuisce il rimbalzo e guarda dove la mette tra palla al volo bellissima che colasso conclusione si piega tutto giù la spalla sinistra che colasso di congiro non è riuscito a farà scappa vedi e slitta verso il palo gran gol l'alto si è praticamente stoppato disinteressandosi del pallone almeno che si è fatto capire dal linguaggio del suo corpo e credo che fosse oltre sulla linea di passaggio vedi che si blocca con le gambe lì ma non disturba la stracolità il radi sta facendo verificare a guida e carbone che sono gli uomini del VAR che sia tutto ok è tutto ok e si riparte 1 a 0 con l'estero manda per Immobile e prova a passare attorno a Chiellini se l'allunga Immobile Chiellini ancora in scivolata a chiude ma oltre perché sta arrivando Parolo e può servire di nuovo Immobile 3 contro 3 1 po scoperta Immobile in area calcia l'arco però ottima ripartenza della Lazio l'azio deve fare il massimo per costruire Alex Sandro sta giocando un po' male sta andando agli altri la palla è proprio così ragazzi finisce primo tempo 1 a 0 Juve ma comunque la Lazio c'è come diceva il commentatore ma più che altro la Lazio è aggressiva quindi dobbiamo stare molto attenti però per adesso primo tempo dobbiamo assolutamente fare il 2 a 0 nel secondo tempo sperando che arrivi quel gol di CR7 speriamo dai forza Juve ragazzi forza Juve ragazzi tutto pronto per il secondo tempo ci siamo si parte dai 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 e ce l'ho pure fatta a calcio è un'attesa di turcica nella porta della rovesciata 5 della Lazio più 2 della Juve in barriera parte Ronaldo che c'entra la barriera poi riprende il pallone con le stendolo lo manda per Chiellini che gira di testa e stracoscia mette le mani sul pallone ma non lo chiede non lo chiede non lo chiede mannaggia vicino al 2 a 0 è il primo squilla di Ronaldo dalla partita arriva al 63 ci siamo ci siamo come viene messa questa palla eh Pjanic esce secondo me ha fatto una partita normale ovviamente con un grandissimo gol che lo sta decidendo con un gran gol la prestazione di Pjanic cioè la Juve non può prescindere ormai da questo Pjanic stiamo facendo grazie a lui direi certo ma cosa gli ha parato? ah ma cosa gli ha parato? si era già spostato per ricevere quel tracciante fuori dall'area di rigore poi guarda come velocemente sul posto si libera dell'avversario sembrava più angolata prima ma c'è vabbè questa è la sua giocata ma dunque la scosta dalla patia proprio per Ronaldo che pizzica il pallone ma Stragoscia dice ancora di no ma già prima l'occasione con l'anticipo di Wallace poi il tiro poi qui ancora l'anticipo di Stragoscia recupera dunque la scosta ma si addormenta Alessandro la palla alla Lazio e Lucas Leiva potrebbe essere un grande finale di partita che se la Juve provo a chiuderla col suo fuoriclasse Cancelo posizione regolare Cancelo al cross per Ronaldo che litiga con il pallone ma mandio che c'è fatto la zero per la Juve ma vuole segnare Ronaldo pazzesco ma Zucchiccia ma il turbo arriva da destra prima dove la scosta e poi gioca a se peccato per ma non è riuscito per poco così Ronaldo infatti ride lo stesso anche si perché è inciampato si ma adesso scende Cancelo ma intanto il conductor scosto la zero raga ma come puoi apprendermi divano sull'esterno ma lì è inciampato perché gliel'ha spizzicato al portiere schiantato anche contro il pallone è stato sfortunato con Ronaldo si e l'ha attaccato ancora un grande strago la zero vabbè buono la zero raga e direi che è quasi chiusa ma manca solo il gol di Ronaldo è un'altra opportunità che ha la Juve perché poi non c'è quadrato non c'è di bala è uscito per Mardelli super Mario Manzokic Mario Manzokic Mario Manzokic Mario Manzokic non arriva il primo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo arriva la seconda vittoria in due partite è due a zero sulla Lazio nel primo tempo ci siamo ci siamo va bene lo stesso ma puoi dire ma puoi dire io avrei detto cancelo ragazzi non so ditemi voi chi avreste detto comunque super Juve manca il gol di Ronaldo però comunque ottima prestazione Roby ha portato fortuna meno male quindi ragazzi mi raccomando spagate il like iscrivetevi al canale perché se no siete game over la patatina è tutto e anche Roby ciao ci vediamo al prossimo video bella